Ttg per noi è sviluppo, innovazione e visibilità. Regeneration quest'anno sostituisce SIA, quindi è un nome che vuole dire ci siamo, del motivo per cui quest'anno siamo qui, per dare un segnale ai nostri clienti che l'azienda c'è, che abbiamo tanta tanta voglia di ricominciare. Quindi Regeneration come parola positiva è un segnale che vogliamo dare ai nostri clienti. Crediamo molto al contatto con il cliente, a far vedere, a far toccare con mano la qualità, la bellezza dei nostri articoli, dei nostri prodotti. Grazie a tutti.